7 gennaio sarà una data in cui insomma tutti gli studenti sperano, sicuramente non tutti lo faranno, ma di tornare sui banchi di scuola. I trasporti come saranno organizzati? Ma intanto ce l'auguriamo anche noi che tutto vada per il meglio. I trasporti sono organizzati attraverso un potenziamento della flotta, grazie al ricorso agli autobus da noleggio, dei noleggiatori, finanziato dalla Regione Toscana con risorse aggiuntive. potremo disporre sul bacino di Arezzo di 40 autobus in più rispetto ai normali anni che ci consentiranno dopo un'attenta programmazione fatta con le scuole, con la prefettura, con un coordinamento attento e con molti incontri prima delle feste natalizie e durante le feste natalizie di raddoppiare molte corse extraurbane e intensificare le corse urbane con una frequenza maggiore. Questo dovrebbe essere sufficiente per consentire a tutti i ragazzi di rientrare a scuola sapendo che negli autobus si può rimanere, si può stare, si può viaggiare fino a una capienza massima del 50% di quello che è scritto nella carta di circolazione. Quindi non il 50% dei posti a sedere ma il 50% della carta di circolazione. Il dettaglio è importante perché ci può essere comunque la sensazione di una densità eccessiva all'interno degli autobus. Occorre ricordare che negli autobus c'è la deroga al rispetto del metro di distanza però con norme comportamentali importanti, evitare se possibile di parlare, guardare verso il senso di marcia e ovviamente tenere la mascherina. Quindi tutte indicazioni che terremo a rendere note negli autobus attraverso i siti istituzionali comunque per garantire con il massimo sforzo le migliori condizioni di viaggio. Con queste prerogative c'è il rischio che qualcuno comunque rimanga a piedi, tra virgolette, oppure no? Ma no, penso proprio di no anche perché fin dalla prima settimana quando la rientro con didattica a distanza sarà al 50% come la capienza dei bus invece la programmazione degli autobus è stata fatta come se il rientro fosse al 75% quindi dovrebbe esserci condizioni sufficienti per un rientro ordinato. Vedremo poi come aggiustare di giorno in giorno il tiro anche in prospettiva di un rientro di un numero maggiore di studenti a scuola come è previsto nell'attuale DPCM se non verrà cambiato dopo il 15 gennaio. C'è anche il tema dei rimborsi, da quel punto di vista come vi siete organizzati? Da questo punto di vista per adesso non ci sono indicazioni, sempre da parte della Regione e del Governo rispetto ai rimborsi quindi per il momento non ci sono disposizioni. Il consiglio che stiamo dando ai nostri utenti è quello di conservare gli abbonamenti non utilizzati perché qualora il Governo e la Regione dispongano ulteriori rimborsi come quelli di settembre almeno serve il titolo di viaggio non utilizzato per poter essere rimborsato.